Più di un miliardo di ricavi, con un utile netto di oltre 28 milioni di euro, le cifre del bilancio di Estra, con il gruppo che ha chiuso l'esercizio 2021, con la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari. Estra dode della fiducia del mercato. La multiutility energetica ha infatti collocato con successo il prestito obbligazionario di 80 milioni, con il bond completamente sottoscritto da investitori istituzionali. Estra premia le classi ruggenti di Roar il concorso ambientale realizzato con Stralico, vinto quest'anno da scuole di Macerata per le Marche, di Prato per la Toscana, di Bastia Umbra, Perugia, per l'Umbria. Estra e Cup, il nuovo concorso digitale per associazioni sportive non professionistiche, ha premiato le società vincitrici delle 15 categorie, alle società vincitrici 3.000 euro e materiale sportivo per gli atleti.